Il vantaggio è che già con la Triestina abbiamo provato l'emozione dei veri di Barbera a tutto pieno. Quanto alla partita, noi bisogna essere bravi a fare le cose come abbiamo fatto a Chiavari. Bisogna fare le stesse cose, avendo poi il pubblico da nostra parte, dovremo cercare di dare uno spessore ancora maggiore alla nostra prestazione, perché il fatto che 32-33 mila persone ti spingono, questo è un vantaggio non indiscutibile. Quindi ci auguriamo in tutti i modi, al di là di quello che possa accadere, che la squadra possa domani sera dare delle soddisfazioni anche dal punto di vista del gioco a questi nostri tifosi, perché l'altra volta con la Triestina è stata una partita di sofferenza, però alla fine siamo riusciti a pareggiare e a portare a casa il passaggio del turno. Domani sera speriamo di riuscire a far meglio, però sappiamo che sono avversari di un grande livello, sia la Triestina come l'Intella, hanno giocatori bravi, bisogna cercare di essere bravi a lottare, a soffrire, a non mollare un centimetro, a stare concentrati e pensare che all'andata non abbiamo vinto ma abbiamo perso. L'altra sera, per esempio, Valente non aveva un problema fisico, ma aveva un problema familiare. Era stata ricoverata la bambina all'ospedale che non respirava e questo l'ha saputo alle tre pomeriggio e noi alle otto e mezzo giocavamo. Valente è stato molto bravo a concentrarsi e cercare di fare la sua prestazione. E poi non è stato certamente quello della gara di Trieste, però l'apporto di Valente, anche in quelle condizioni, è un apporto fondamentale per la nostra squadra. Ora non c'è più il tempo di fare delle prove, ora c'è il tempo da stringere i denti, di lottare, di soffrire e poi noi sappiamo chi sono questi ragazzi, chi sono questi giocatori. Come ho detto, quando ci saranno delle condizioni tali, come è successo a Calvi, che uno non riesce a giocare e chi è in quel ruolo giocherà. Come è successo a Buttero, che sta giocando al posto di Accardi e lo sta facendo benissimo. Accardi è recuperato, però fa sempre un lavoro differenziato, perché deve cercare di recuperare da questo problema. Fa una serie di terapie che lo costringono in questo momento a allenarsi a parte e non con la squadra, però se ce ne fosse bisogno Accardi può scendere in campo.